Allora ragazzi salve a tutti eccoci qui ritrovati in questo nuovo episodio di Resident Evil 4 Remake Siamo con la nostra Ashley Ashley la tonta Se così la possiamo definire E niente andiamo avanti va Mi serve una luce Eh si ci serve la luce grazie sempre per il supporto che ci state dando Continuate Supportate anche I canali che sono sotto in descrizione Mamma mia Ma non mi ricordo che c'avevamo una torcia Nell'originale Voi vi ricordate che c'avevamo una torcia Mistero Senza armi Senza niente Armati di torcia Al buio dobbiamo salvare Dion Aia E' to' E' ratto Allora Una biblioteca Una statua inquietante Speriamo non si attivi Un orologio Un orologio Allora Gli antichi avi Rispondevano Allora prescelta Vabbè E quale sarebbe l'ora prescelta Scusate E io che ne so E' bravissima Aiutateci col tempo di visualizzazione Anche se ci state dando un bel supporto Ci fa piacere appunto C'è anche Togliete anche Ci state dando un gran supporto Quindi Qua c'è una chiave Allora E' tutto E' tutto così inquietante Qua dentro C'è una scala nascosta Porterà una specie Distanza segreta Comunque C'è troppo silenzio Qua Un mazzo di chiavi Porca miseria Allora C'è anche parecchio Alterata E' Ottimo L'ho provato Accendi Aciapiccia L'ascensore Grandissima Così Ci siamo dati Ok Perfetto Fino adesso Non sta andando male Sono un genio Sono un genio E' zero qua Non so leggere l'orologio Sono un fenomeno ragazzi Ci sono riuscito Dopo tre ore Vabbè Vabbè Lascia Vabbè Caliamo un velo pietoso Su questa situazione Veramente un velo pietoso Gira ad archibugio Che ce l'hai alle chiappe Il tipo Dove va andà Eh il bello È capire dove cavolo Io debba andare Quella è La cosa Forse è qua E Questa Allora Prima Eh l'abbiamo bloccata male Non fermarti Non fermarti Dove devo andare No Qua è dove stavo prima Non lo so Sta andando Totalmente a caso Qua c'è un altro Di quei Cavolo di orologi Sarà pure questo Undice Zero Quattro Vediamo Non lo so Non lo so Ma di questo Di questo Non ci ha dato La combinazione Per l'apertura Che ne so Magari Magari Sta Da qualche parte Da ste parti O è 1104 Pure lei Via A veloci Ma non trovo Abbiamo un fronte Prima o poi Allora Non so Non so La combinazione Qua però Ci siamo Già Passati Si è sempre Quella La cavolo De combinazione Benedettissima Per aprire Sti cosi Ragazzi Sempre 1104 Ok Tori Ciao 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 Belle Ciao Ok Allora ragazzi Facciamo così Siccome secondo me L'episodio è durato Abbastanza Ci ha salvato Io direi Prima che ci impelaghiamo In altre cose Complicate Ci lasciamo qui Come al solito Vi invito Iscrivervi al canale Lasciate un bel like Commentare Condividere Seguire anche I canali Sotto in descrizione Che fanno gameplay E sono molto bravi E tra l'altro E supportarli Lasciandogli like Se vi va E una bella iscrizione Iscrivetevi anche Al nostro canale Ve lo ricordo E ve lo ripeto E noi ci vediamo Alla prossima Ciao a tutti